E tutti i gocci fra le mani, i devoli... Oh, c'è Dio, oh Dio, quanto è lento questo piccone, no? Ormai sono abituato al... Efficienzi 4. Allora, direi che possiamo iniziare a scavare. Scavare tanti blocchi è molto bello, sai, essere un ne... Ci sono due coccodrilli ed uno rangotango. Perché sono uno, due, minchia, tre, quattro. Ciao, devo andare via tutto questo pezzo qua. Questi mi servono. C'ho anche fortuna al piccone, raga, c'ho fortuna al piccone. Sdrumox. Questo è alto 3. Sfaggaggia. O sfaggia. È alto 3. Vedrebbero due secchi d'acqua. Vado a mettere qua e l'altro... Poggers. E dobbiamo, innanzitutto, così e così, fare in modo che tutto converga converga verso questo punto qua. Poi dobbiamo mettere via le roba dell'inventario perché ce l'abbiamo troppo pieno. Guardate, sto cuocendo il mio pranzo perché in questo momento ho il covid e devo provociermelo al microonde. Mangerò i tortelloni al parmigiano mentre... Sto costruendo questa fa. Ma perché no? Perché no? Io voglio fare così. Questo è il mio volere. Allora, a questo punto dobbiamo scavare... Allora, ho scavato 5 blocchi in altezza, un blocco 9x9. E quello che vado a fare adesso, dopo aver messo l'acqua negli angolini, vado a scavare un piccola porzione di questo posto. Vado a tappare sti buchi qua che mi stanno dando fastidio. Poi mangio un tortellone. E in successivamente ho da fare questa cosa qua. Ovvero scavo un blocco sotto a tutti i blocchi d'acqua. In modo che l'acqua converga tutta in un'unica posizione. Dopodiché dobbiamo prendere delle fence e della dirt e fare esattamente quello che faccio io. Ho scavato 3 blocchi qua, così. Nei primi due metto la fence e nell'ultimo qua, sopra, metto la dirt. Quindi in questo possiamo anche fillarlo, in questa posizione qua. Dopodiché ci serve un altro ingrediente che purtroppo io dietro non ho, ovvero la kelp. Quindi andiamo subito a prenderlo. Posso avere fortuna 2 efficiency almeno. Aspetta, aggiungo una libreria, magari arriva al livello 28 come enchanting. Ah, fortuna 3 no, devo prenderlo. Fortuna 3 è proprio... Ce l'abbiamo, abbiamo un piccone decente, signori, abbiamo un piccone decente. Adesso dobbiamo fare un'operazione molto divertente, ovvero... I cartelli molto belli, su cui scriverò dei messaggi subliminali. Esatto, così, perfetto, perfetto. Ci metterò un pisello così e successivamente scaveremo in alto per... Interessante comunque trovare diamanti così, eh. Grazie Diana, grazie. Sì, quello è il mio cane, si chiama Diana. Ma chi cazzo, ma chi cazzo, ma chi cazzo, ma chi cazzo. Interessante. 25 diamanti. Possiamo fare tutti i jukebox che vogliamo. E ora dobbiamo fare una roba, ovvero fare 27 blocchi da qua. 27 perché dobbiamo portare i scheletri in alto e poi farli cadere. Un blocco d'acqua qua. E iniziare a scavare. Doviamo mettere le kelp in modo da creare tutti i blocchetti d'acquetta. Dobbiamo prendere quello che abbiamo preso l'altra volta, che è a casa. Cristo Dio, quanto sono stupido! E ora che siamo di tornati qua, sostituiamo la dirt con la soul sand. E questo dovrebbe creare un effetto babbalinoso. Sì, mi pare che ci sia l'effetto babbalinoso. E poi, dobbiamo notare un particolare preciso. Allora, se vedete la route che sto programmando per questi scheletri, cosa succede? Che spawnano qua, vengono trasportati dall'acqua, qui adesso veloci un po'. Vengono trasportati dall'acqua e poi vanno qui. Che è la zona dove dovrebbero essere portati su. Il problema è che c'è questo blocco qua che rompe i coglioni. Noi cosa facciamo per fare in modo che questi vengano tirati più al centro? Scaviamo qua. Questo qui è un accorgimento, perché sennò la vostra farm rimarrà incastellata tutta nella zona lì. E non andranno mai su i scheletri. Andiamo su e iniziamo a scavare tre blocchi di qua. Mettiamo un cartello. E scaviamo per 23 blocchi. E 23. E questa sarà la zona dove questi stronzetti cadranno e si spappoleranno senza morire. Perché se muoiono non ci danno l'XP. Quindi dobbiamo farli cadere da tanto alto, in modo che abbiano tipo un HP rimasto. E poi gli diamo l'ultimo colpetto. Quindi quello che facciamo per collezionare tutti gli oggetti in modo molto carino è prendere magari un hopper. Un po' di carbone. Cioè non ci credo che non ci sia del cazzo di carbone in una cazzo di caverna del cazzo. Beh uso il blocchi, uso il secchio di lava, ho capito. Non è tornato al punto di base, direi. Cuocere ferro della minchia. E fare hopper. E abbiamo l'hopper. Adesso facciamo una doppia chest. Mettiamo tutto in posizione. Così possiamo finalmente iniziare a fare quello che ci pare. Adesso ci mettiamo un po' di blocchi. Facciamo una piccola scavatura per andare a collezionare. Blocchiamo qua. E spegniamo le luci. Pronti? Ehi! Ehi scherzo, 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 scherzo. E ora la nostra farm di scheletri dovrebbe essere perfettamente funzionante. Easy as that. Nel prossimo episodio mi faccio un po' di ossa, vado a prendere dei lupi e la rendiamo completamente automatica.